Ai confini tra Sardegna e Jazz 2009, la registrazione è stata effettuata a Sant'Anna Resi il 26 agosto scorso, Nicole Mitchell, Many Paths Meet the Sea for Alice Coltrane. Noi ci sentiamo già tra un tre quarti d'ora circa e poi parleremo del concerto di Alexander. Adesso buon ascolto con Nicole Mitchell. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.